Musica Buonasera e bentrovati al consueto riepilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo con lunedì 7 gennaio. Chiusura, Ponte Aspra, Ficarazzi, commercianti protestano in prefettura a Palermo. In effetti Aspra dal 29 di agosto, chiusura ufficiale del ponte che collega Aspra con Ficarazzi è rimasta isolata. Le attività commerciali non fanno più niente, il paese ha visto calare le loro presenze e quindi si è creato un vero e proprio problema economico e sociale. Oggi siamo venuti qui in prefettura per farci ascoltare dal prefetto e per cercare una soluzione al caso. Noi chiediamo immediatamente una perizia strutturale che ne determini la sicurezza o la chiusura o l'apertura del ponte. Poi una bretella che colleghi sempre Ficarazzi con Aspra in maniera tale da fare arrivare il flusso di persone che arrivava da quella parte, quindi da Palermo, verso Aspra. È stato chiuso senza una verifica strutturale? No, è stata chiusa solamente con due ispezioni visive. La sua attività commerciale come le altre ad Aspra sono in forte sofferenza? Sì, sicuramente sì, da quando hanno chiuso il ponte questo senza dubbio, tutti andiamo indietro anche con le vendite e con tutto. Sicuramente andremo sempre avanti, perché dopo io ho la mia attività, 25 anni di attività e quindi lotto per portarla ancora avanti. Però non so sino a quando, se questo ponte rimarrà chiuso, sino a quando potremmo sopravvivere, perché le tasse comunali ci arrivano regolarmente, tutti chiedono, ma nessuno dà. Tra l'altro è passato il Natale e il ponte con la chiusura del ponte, il Natale è da sempre un periodo propizio per i commercianti. Sì, e infatti abbiamo fatto incassi, guarda, è da fare paura, chiudere con 50-60 euro la sera, non è che pagare i dipendenti, che poi oltretutto licenziare i dipendenti, mancare lavoro ai dipendenti, perché non possiamo più pagare manco i dipendenti, quindi siamo costretti a ridurre il personale. Quanto detto, un ponte chiuso soltanto con un sopralluogo visivo, ma senza alcuna perizia tecnica, ma è vero? Sì, in realtà la situazione strutturale delle ponte è stata seguita dai tecnici dell'ex provincia nei vari mesi e nell'ispezione visiva è stato notato un pergeramento della struttura, un assottigliamento che poteva, almeno ci hanno detto così, che poteva essere rischioso e provocare un danno anche nel giro di pochissimo tempo. Presi anche l'onda di quello che era successo a Genova, presi da momenti di panico, probabilmente questo ha scatenato la chiusura del ponte, tra l'altro sono state raccolte anche delle firme da alcuni cittadini per chiudere il ponte. Noi a prescindere in questi mesi ci siamo messi in contatto con l'ex provincia e in realtà sono stati fatti dei passi avanti, nel senso che l'ex provincia ha trovato anche dei fondi per poter realizzare dei sondaggi che sono da un lato propedeutici alla realizzazione dei lavori e dall'altro ci permetterebbero di dire con certezza la situazione reale del ponte. Botte a risposta su Facebook fra il ministro dell'interno Salvini ed il sindaco di Palermo Orlando su tre ville confiscate da assegnare alla città. In una diretta Facebook il vice premier Matteo Salvini è tornato a parlare di migrazione e di mafia ed ha citato il sindaco di Palermo che nei giorni scorsi ha dichiarato che non applicherà il decreto sicurezza che vieta l'iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo con permesso scaduto. Il sindaco di Palermo è uno dei fenomeni che si occupa di insicurezza, ha detto il ministro, e vuole più immigrazione. Su questa scrivania ha una delle foto delle prossime tre ville confiscate dalla mafia che avrò l'onore, l'orgoglio e la gioia di riassegnare i cittadini di Palermo, sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati. Non poteva mancare la risposta di Leo Luca Orlando che chiede al ministro meno Facebook e più fatti, riferendosi a ripetuti annunci, già cinque, di imminente consegne ai palermitani di alcune ville confiscate dalla mafia. Da luglio dello scorso anno fino a ieri il ministro, più volte sempre su Facebook, ha affermato che verrà a Palermo, ricordando che una delle ville sarà destinata ai servizi per bambini autistici. Se stesse un po' meno su Facebook o in più al ministero, sottolinea Orlando, saprebbe perché i suoi uffici non fanno la consegna. Noi, i palermitani, aspettiamo. La vicenda riguarda tre ville confiscate dalla famiglia mafiosa dell'Olcicero nel 2013 che l'Aggiunta Comunale di Palermo ha deciso di destinare ad attività sociali. In particolare, una villa in collaborazione con l'ASPA dovrà essere destinata a servizi per cittadini con autismo. Una villa dovrebbe diventare la casa del volontariato, affidata al CESVOF, il Centro Servizi per il Volontariato di Palermo, una terza villa dovrebbe diventare la sede della Consulta Comunale per la Pace. Nel suo posto, Orlando fa infine un riferimento anche agli immobili da destinare all'emergenza abitativa. Secondo il sindaco, vi sarebbero infatti una quarantina di famiglie di palermitani nella lista di emergenza abitativa che aspetta il ministro per l'assegnazione di un alloggio confiscato. Martedì 8 gennaio, nuove scosse di terremoto sull'Etna. Non si segnalano danni a cose o persone. Due scosse di terremoto sono state registrate sull'Etna dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima alle 6.42 di magnitudo 2.4 e la seconda alle 6.42 di magnitudo 2.2. I due eventi hanno avuto lo stesso ipocentro tra i 3 e i 4 km e nord-ovest di Milo a una profondità di 6 km. Non si segnalano danni a cose o persone. Intanto sono quasi un centinaio le ordinanze di sgombero firmate dal sindaco di Zafferano Etnea, Alfio Vincenzo Russo, per inagibilità totale o parziale degli immobili causata dal sisma dello scorso 26 dicembre. Lo rende noto il Comune, sottolineando che i proprietari degli immobili inutilizzabili potranno attingere al contributo di autonoma sistemazione e la quantità varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. Sono 1.322 sopralluoghi eseguiti fino a questo momento per la verifica dell'agibilità delle costruzioni a Zafferano Etnea, soprattutto nelle frazioni maggiormente colpite dal movimento tellurico, e cioè Flery, Poggio Felice e Pisano, a fronte di 2.289 richieste. Gli immobili agibili al momento sono 566, quelli parzialmente agibili 364 e 392 gli edifici inagibili. Gli sfollati sono 501 e sono alloggiati in alberghi grazie alla convenzione stipulata con la regione siciliana. La via Vittoria Emanuele, strada principale che attraversa l'abitato di Flery, resta ancora chiusa per alcune criticità post-terremoto non ancora del tutto risolte. Decreto sicurezza, dipendenti comunali in difficoltà, viste le nuove disposizioni del sindaco Orlando, nell'applicazione della legge interviene il sindacato CSA. Sentiamo. Ci sono molte incertezze che creano grande difficoltà in chi deve applicare la normativa. La normativa sull'anagrafe è cambiata per alcune categorie di persone, soprattutto gli extracomunitari, che avevano alcuni diritti che oggi sembrano essere cambiati. L'applicazione della norma però è quella. L'ufficiale anagrafe, nella fattispecie l'impiegato comunale, che si trova ad applicare la legge perché è il front office, quello che poi materialmente va a contatto col cittadino, si trova in grosse difficoltà, atteso che il nostro sindaco ha deciso di interpretare o dare un'altra visione della normativa, ma la normativa è quella. Quindi l'impiegato si trova da un lato il datore di lavoro che dà una disposizione, dall'altro lato lo Stato che emette una legge che va applicata. L'ufficiale anagrafe, ricordo a tutti, che è designato dal sindaco in quanto lui stesso è l'ufficiale anagrafe, ma è delegato con nomina prefettizia ed è sottoposto a vincolo, al giudizio, all'ispezione della prefettura. Noi abbiamo un ordinamento ben preciso. L'impiegato ha l'unica difficoltà e paura di incombere, da un lato a un provvedimento disciplinare perché non ha temperato il datore di lavoro, dall'altro lato in una denuncia o un altro provvedimento che è imposto dalla legge. A questo punto si troverebbe in mezzo tra due fuochi e questo è quello che noi come sindacato vogliamo che si eviti. Non è possibile che il dipendente comunale, che è l'ultimo della catena, debba pagare il conto quando non ha alcuna responsabilità in questo senso. Vogliamo che il sindaco chiarisca bene la sua posizione, come ha fatto già mediaticamente, e dica quello che chiaramente vuole assumere come responsabilità lui per se stesso e quale responsabilità deve dare agli impiegati. Nell'attesa cosa si fa? Si attende una risposta del sindaco? Allora, il sindaco ha già dichiarato pubblicamente quello che vuole fare. Se questo ha un corso pratico, il problema non esiste, in quanto poi, per quanto riguarda nell'attesa, non è una perdita di tempo, ma è la prassi. Si stanno prendendo le prenotazioni delle pratiche, ma chiaramente prima o poi le pratiche si dovranno trattare, quindi in quel tempo dovremmo avere già le idee chiare. Una mensa per i meno fortunati dal concetto innovativo al complesso monumentale di Santa Caterina d'Alessandria a Palermo. Abbiamo ripreso un'iniziativa che già era iniziata a San Mamiliano e ci sembra giusto che un monastero come quello di Santa Caterina pensi ai bisognosi. L'idea e la pratica è quella di dare dei pranzi alle famiglie con l'obiettivo che mangiando insieme le famiglie recuperano momenti di comunione, momenti di unione. Quindi il pranzo non solo perché si è nel bisogno, ma come occasione per intensificare la comunicazione, i rapporti all'interno della famiglia. Sono pranzi da asporto, quindi ogni giorno, dal lunedì al sabato, vengono queste famiglie e hanno i pranzi secondo il numero di ogni famiglia. Non soltanto famiglie, ma anche senza tetto? Certo, è chiaro che noi facciamo sistematicamente 100 pasti al giorno in base a tutte le indicazioni che abbiamo perché per poter venire bisogna fare una richiesta, c'è un'assistenza sociale che verifica e quindi queste persone vengono normalmente. Ma evidentemente facciamo dei pasti in più per l'avventore, per colui che si trova in difficoltà di un giornaliera, è chiaro che non lo facciamo andare senza nulla da mangiare. Che cosa preparerete ai vostri ospiti? Oggi prepareremo pasta al sugo e gatto di patate. Di solito quali sono i piatti più frequenti? Sono pasta al forno, broccoli gratinati, patate gratinate, pasta a minestra, quindi minestrone, pasta con lenticchie, polpette con il sugo. Riuscire a prestare servizio civile all'interno di una mensa per bisognosi, ma cosa ti sta portando? Allora, mi sta portando tanta gioia, tanta felicità e soprattutto una crescita interiore perché comunque aiutare la gente che ha veramente bisogno è una cosa bella che penso che tutti dobbiamo fare, dobbiamo fare. Non è tempo sprecato? No, assolutamente no. Mercoledì 9 gennaio, operazione antiterrorismo dei Carabinieri del ROS che hanno eseguito nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissette e Brescia 15 fermi. Nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissette e Brescia il raggruppamento operativo speciale Carabinieri ha dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura distrettuale di Palermo nei confronti di 15 indagati ritenuti a vario titolo responsabili di istigazione a commettere più delitti in materia di terrorismo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed esercizi abusivi di attività di intermediazione finanziaria. L'indagine denominata Biad ha permesso di individuare un sodalizio criminale prevalentemente formato da cittadini tunisini che organizzava in cambio di ingenti corrispettivi di denaro contante traversate di ristretti gruppi di cittadini tunisini dalle coste magrebine a quelle trapanesi eludendo gli ordinari strumenti di controllo. L'associazione stabilmente operante in territorio italiano e tunisino curava anche l'espatrio dalla Tunisia di soggetti ricercati dalle locali autorità e forze di polizia e incrementava i propri illeciti guadagni con attività di contrabbando di tabacchi lavorati esteri distribuiti nel territorio palermitano. Gli ingenti guadagni ricavati dalla struttura associativa dopo essere confluiti nella cassa comune custodita dai vertici dell'organizzazione venivano in parte riutilizzati per il rifinanziamento della struttura operativa e logistica in parte occultate in proprietà immobiliari o depositate in banche tunisine su conti fittiziamente intestati a soggetti residenti in Tunisia. Le attività di indagine effettuate anche attraverso un mirato monitoraggio di alcuni profili social hanno permesso di verificare che uno degli indagati oltre a svolgere mansioni direttive del sudalizio gestiva mediante lo strumento informatico un'intensa attività di stigazione e apologia del terrorismo di matrice islamica. L'uomo attraverso una pluralità di fittizie e identità virtuali ha tentato di sfuggire ai consuati strumenti di controllo ed esaltava le più crudeli attività terroristiche condotte in Tunisia, Iraq, Siria, Medio Oriente, Europa e Stati Uniti. Etna, ancora un terremoto nella notte nuova forte scossa a Milo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata questa notte a 10 km a nord-oveste di Milo, in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna, a riportarlo all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul proprio sito. L'epicentro del sisma è stato rilevato a 2 km di profondità. Il terremoto non ha provocato danni a persone o cose, come si legge in un comunicato del Dipartimento della Protezione Civile. L'evento, con l'epicentro localizzato tra i comuni di lingua glossa Sant'Alfio e Milo, è stato avvertito dalla popolazione. Il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l'evolversi della situazione, in stretto raccordo con i centri di competenza e con la regione siciliana. La scossa ha avuto intensità simile a quella di Santo Stefano. Nel corso della notte, altre scosse sono state registrate ad Adrano alle 5.14, con intensità 2 e poi, scollegata probabilmente dagli eventi dell'Etna lungo la costa nord-occidentale messinese, all'1.40 di intensità 2.7. E intanto sono quasi un centinaio le ordinanze di sgombero firmate dal sindaco di Zaffranet Nea Alfio Vincenzo Russo per inaginabilità totale o parziale degli immobili causata dal sisma nello scorso 26 dicembre. Lo rende noto il Comune, sottolineando che i proprietari degli immobili inutilizzabili potranno attingere al contributo di autonoma sistemazione la cui entità varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. La spedicatania intanto si è mossa per garantire assistenza psicologica alle popolazioni residenti nei territori colpiti dal terremoto. Dopo gli interventi di sostegno eseguiti in emergenza che hanno riguardato adulti e bambini, è stato predisposto ed è attivo un organico pieno di interventi di supporto e trattamento post-traumatico. Giovedì 10 gennaio, Operazione Talea, individuati tre pesunti autori di due delitti avvenuti a Partinico. Sono tre gli indagati ritenuti responsabili di due omicidi commessi a Partinico inquadrabili nella lotta intestina alla famiglia mafiosa. La direzione distrettuale antimafia ha delegato i carabinieri del Comando Provinciale di Palermo ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Francesco Loiacono, Corrado e Domenico Spataro. Le attività di indagine hanno consentito di acquisire un quadro indiziario grave e concordante per l'omicidio di Giuseppe Lobbaido avvenuto a Partinico il 13 luglio 2017 e di Cusumano Giuseppe avvenuto nel settembre del 2011. Ad essere ricostruite anche le motivazioni dei delitti, i due agguati sarebbero inquadrabili nella scalata al vertice della famiglia mafiosa di Partinico e sarebbero stati la vendetta di Francesco Loiacono e del collaboratore di giustizia Sergio Macaluso per l'omicidio di Maurizio Loiacono ucciso il 3 ottobre del 2005. L'indagine rappresenta una tranche dell'operazione talea eseguita il 5 dicembre 2017 nei confronti degli esponenti dei mandamenti mafiosi palermitani di Resuttane e di San Lorenzo nell'ambito della quale sarebbero state intercettate alcune conversazioni in cui Sergio Macaluso avrebbe fatto riferimento alla sua partecipazione ad alcuni gravi fatti di sangue. Sergio Macaluso, una volta diventato collaboratore di giustizia, si sarebbe autoaccusato dai due omicidi, rivelando motivazioni, mandante e complici e modalità di esecuzione. Secondo le dichiarazioni avrebbe commesso l'omicidio di Giuseppe Lobaidu con la complicità del cognato Corrado Spadaro mentre avrebbe ucciso Giuseppe Cusumano con la complicità di Domenico Spadaro, l'altro cognato. Francesco Loiacono e Corrado Spadaro erano già reclusi in istituti penitenziari perché arrestati nell'ambito delle operazioni talea talea 2 in quanto ritenuti rispettivamente responsabili di danneggiamento a mezzo incendio aggravato dalle modalità mafiose e associazione mafiose di estorsione aggravata dalle modalità mafiose mentre Domenico Spadaro incensurato è stato catturato nel corso della notte in provincia da Grigento. Saldi, sondaggio di Confesercenti Sicilia sull'andamento della prima settimana il presidente Vittorio Messina la ripresa non c'è La ripresa resta lontana ad una settimana dall'avvio dei saldi in Sicilia a pensarla così il 72% dei commercianti dell'isola il dato emerge da uno studio condotto in tempo reale da Confesercenti Sicilia intervistando un campione di 200 esercenti nel settore della moda e calzature per fotografare l'andamento dei saldi sui dati reali della prima settimana ma anche gli umori e le aspettative per il futuro il quadro che emerge è tutt'altro che il roseo per il 59% dei negozianti la situazione è uguale allo scorso anno e a questa percentuale va ad aggiungersi il giudizio di chi il 13% degli intervistati dichiara addirittura vendita in calo rispetto allo scorso anno solo un 2% considera invece l'andamento molto buono una voce flebile confinata per alto solo in due province della Sicilia orientale Ragusa e Siracusa per il resto il feedback imperante che arriva dai commercianti è quello di una situazione stagnante una ripresa lenta, quasi inesistente anche tra gli esercenti delle province che lo scorso anno avevano espresso toni ottimistici ad Agrigento ad esempio nel 2018 l'80% degli intervistati aveva segnalato un aumento delle vendite quest'anno a vedere positiva è solo il 30% lo stesso accade anche ad Enna che lo scorso anno aveva sorriso in periodo di saldi con un 62-50% di negozianti che dichiarava un aumento delle vendite a rimanere uguale secondo la categoria anche il budget di spesa pro capite destinato agli acquisti e che non è ancora da fine crisi dai dati che abbiamo raccolto emerge una prospettiva stagnante e poco ottimistica rispetto al futuro dice Vittorio Messina presidente regionale di Confesercenti Sicilia ai commercianti abbiamo chiesto di dare un giudizio oltre che sulla chiusura della prima settimana sull'andamento che immaginano per il proseguo della stagione solo il 26% crede che la situazione possa migliorare mentre più il 74% considera che rimarrà stabile 51% addirittura andrà a peggiorare il 23% più in generale per il 54% degli intervistati gli spazi per una significativa ripresa del settore moda sono pochi e per l'8% addirittura inesistenti per quanto riguarda le aperture domenicali e festive la Sicilia e Chiazze sono ritenute positive a Caltanissetta, Palermo e Catania decisamente meno influenti in altre città come Messina dove tutti gli intervistati si sono espressi contro le aperture domenicali e festive giudicandole poco o per niente incisive Dighe al via operazioni di pulizia per 10 impianti gestite dalla regione l'Aggiunta Musumeci ha stanziato 450 mila euro avviata dal governo Musumeci la pulitura di ben 10 dighe gestite dalla regione siciliana l'Aggiunta ha destinato 450 mila euro una capillare operazione di bonifica che non ha precedenti grazie al finanziamento dei progetti di gestione potranno essere avviate attività che puntano al mantenimento della qualità dell'acqua e al tempo stesso all'integrità della struttura che la raccoglie l'individuazione degli invasi nei quali si interverrà sarà fatta nei prossimi giorni dopo una valutazione complessiva degli impianti la maggior parte di essi è ancora classificato come sperimentale e attraverso questi interventi si potrà finalmente aggiungere al collaudo consentendo un incremento medio di circa il 30% del volume di acqua raccolto dopo anni di incurie e di gestione scellerata sottolinea il Presidente della Regione nell'Omusumeci bisogna procedere con celerità per evitare il rischio di dover fronteggiare danni maggiori che potrebbero pregiudicare seriamente il regolare approvvigionamento idrico di vasti territori dell'isola adesso finalmente abbiamo a disposizione un importante strumento di pianificazione e di programmazione per assicurare funzionalità e garantire sicurezza ai nostri invasi mettendoci in linea con una serie di prescrizioni ministeriali che fin qui sono state ignorate chi ci ha preceduti ha colpevolmente dimenticato un aspetto fondamentale per questo tipo di strutture vale a dire la loro manutenzione venerdì 11 gennaio rete ospedaliera il ministro Grillo contro l'assessore alla salute nessun via libera se non rispettano prescrizioni razza adotteremo l'atto di programmazione della rete entro il 15 gennaio il ministro della salute Giulia Grillo smentisce le notizie sull'approvazione della rete ospedaliera notizie che erano state diffuse dopo una dichiarazione dell'assessore a razza che in realtà aveva un diverso tenore il nostro parere positivo è condizionato all'adempimento di una serie di azioni fondamentali precisa il ministro che riguardano per esempio pronto soccorso i punti nascita e la rete dell'emergenza territoriale senza le quali non può esserci alcun via libera perché sono condizione fondamentale per la qualità del servizio e la sicurezza delle cure per i cittadini non parliamo di dettagli ma di sostanza forse musumece e razza vogliono intestarsi precocemente a meriti che ahimè questo governo non può al momento accordare gli ospedali e tutta la sanità sono una cosa seria non possiamo accettare annunci tanto baldanzosi quanto infondati che creano illusione ai cittadini che oggi più che mai hanno bisogno di concretezza e non di promesse a rincarare la dose il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars è componente della Commissione Salute Francesco Cappello altro che ok per la rete ospedaliera se il governo regionale non mette le urgentissime toppe richieste il governo nazionale rischia la clamorosa bocciatura da Roma le bugie di Razza Pinocchio che aveva parlato di approvazione da parte del ministero purtroppo hanno le gambe cortissime la smentita il ministro Grillo lo ha palesemente dimostrato l'assessore Razza risponde ricorda proprio il tenore delle sue dichiarazioni mi spiace che l'onorevole Cappello non sia informato delle dichiarazioni da me rilasciate alla stampa ho detto infatti che come comunicato con trasmissione ufficiale del verbale del tavolo del decreto ministeriale 70 è chiesto alla Sicilia di adottare l'atto di programmazione della rete entro il 15 gennaio e che esattamente come avvenuto con lo scorso decreto del 2017 il documento si accompagnerà con il suo crono programma di attuazione a 18 mesi secondo le indicazioni fornite al ministero riusciamo per una volta a evitare le polemiche o dobbiamo proprio farci del male accolgo positivamente la volontà del governo siciliano ha detto il deputato nazionale 5 stelle Giorgio Trizzino di adempiere entro i tempi concordati a lezioni correttive richieste al ministero della salute riguardo ai pronto soccorsi i punti nascita e la rete dell'emergenza territoriale in questo modo la Sicilia potrà finalmente completare quanto prima la propria rete ospedaliera omicidio a Belmonte mezz'anni un manovale di 36 anni Vincenzo Greco è stato freddato mentre stava guidando su via Portella della Paia verso il suo allevamento di animali subito sono scattate le indagini si segue la pista mafiosa si sarebbe dovuto sposare il mese prossimo aveva una compagna un figlio Vincenzo Greco un manovale incensurato nato a Palermo il 5 settembre del 1982 è stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco mentre era alla guida della propria auto diretto all'allevamento di animali che gestiva insieme ai fratelli su via Portella della Paia una diramazione della strada provinciale 38 che porta da Belmonte a Santa Cristina a Gela l'allarme carabiniere è giunto dopo circa un'ora i militari hanno eseguito i sopralluoghi per stabilire il calibro e il tipo di arma utilizzati nell'agguato sembrerebbe una vera esecuzione in pieno stile mafioso a coordinare le operazioni infatti ci sono i magistrati della direzione distrettuale antimafia del capoluogo con il procuratore aggiunto Salvatore De Luca la pista mafiosa sembrerebbe tra le più accreditate il suo cero di Vincenzo Greco era Filippo Casella l'ha ucciso nel 1994 fu uno dei tanti omicidi che inseguinarono quella zona nel Paia Ermitano in un periodo di guerra tra i clan mafiosi per accaparrarsi il potere in quel delitto rimase ferita anche un'altra persona il nome di Greco però non è saltato fuori almeno ufficialmente nelle recenti indagini che hanno riguardato anche il mandamento mafioso di Belmonte Mezzagno e che hanno portato al blitz con cui i carabinieri hanno azzerato la riorganizzazione di Cosa Nostra gli investigatori stanno comunque interrogando i amici e i familiari per tentare di chiarire il movente di questo assassino Cyberbullismo al via il primo tavolo tecnico istituito dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo l'obiettivo è quello di affrontare l'utilizzo scorretto dei new media specialmente tra gli adolescenti in termini di prevenzione sostegno e contrasto e di coinvolgere anche le famiglie Il progetto intanto nasce sulla scorta di un fenomeno che sicuramente non abbiamo ancora la dimensione ma non abbiamo ancora la dimensione di quello che sta producendo perché non è tanto il cyberbullismo in quanto tale ma è proprio l'uso scorretto che si fa delle nuove tecnologie o perlomeno la non conoscenza delle nuove tecnologie e credo che questo è l'elemento di fondo che ha spinto me ma le persone che poi insieme a me hanno attivato questo tavolo per poter innanzitutto capire e condividere e confrontarci sui contenuti proprio di questi fenomeni e dopodiché attivare un percorso che il percorso è stato attivato e diciamo che noi abbiamo iniziato questo tavolo a luglio oggi stiamo a gennaio da luglio a gennaio abbiamo fatto sicuramente un primo momento di confronto scontro tra i soggetti del tavolo anche per come dice per condividere un pensiero comune dopodiché il tavolo stesso ha deciso di attivare un laboratorio partecipato che partiva proprio dalla lettura che i ragazzi danno del fenomeno e partiva dalla conoscenza dei ragazzi che hanno di internet della rete questo è l'elemento innovativo il fenomeno purtroppo sappiamo che è diffuso che oggi è problematico perché ci sono numerosi suicidi e ci sono delle criticità che attraversano tutto il mondo giovanile anche perché i media sono il modo per comunicare oggi più facile fra i giovani di più facile accesso e quindi è spesso senza controllo quindi credo che la funzione del tavolo tecnico è fondamentale per uniformare le procedure e per dare la via dalle pratiche condivise che come in questo caso partono soprattutto dai giovani e quindi alle esigenze di quelli che poi sono gli attori principali delle vicende che sono in grado così insieme agli insegnanti e ovviamente alle istituzioni di suggerire anche degli aspetti che tante volte diciamo così i grandi sfuggono e che possono creare un ponte un collegamento fra mondo delle istituzioni mondo scolastico e ovviamente giovani credo che appunto all'interno di questo tavolo tecnico ci siano veramente le figure istituzionali che ci devono stare perché ciascuno porta la propria expertise il proprio punto di vista e quindi inevitabilmente anche il proprio contributo per quello che riguarda l'Università di Palermo ecco il ruolo che spero l'Università possa avere all'interno di questo tavolo dovrebbe essere quello dell'aiutare a definire a misurare il fenomeno che è un fenomeno come possiamo facilmente immaginare e intuire è un fenomeno estremamente variegato ed estremamente complesso che è riduttivo semplicemente definire come cyberbullismo rimane una parola effettivamente molto evocativa molto suggestiva molto comune diciamo nell'orecchio dell'opinione pubblica ma che da un punto di vista scientifico in realtà ha bisogno di una misurazione di una valutazione molto molto più accurata anche per oggi è tutto grazie per averci seguito ancora buona domenica grazie a tutti